Ragazzi buongiorno, mi sto preparando il pranzo e ho pensato di farvi vedere una ricettina particolare perché farò con questa pasta speciale che è una pasta praticamente super light dietetica che ho comprato di recente al Carrefour, se mi seguite nei miei vlog sul mio primo canale già lo sapete Felicia Bio ed è praticamente una pasta molto estere biologica anche adatta per i celiaci e senza glutine ma anche per tutti perché è light, quindi se siete a dieta, basso contenuto di carboidrati ed è ricca di proteine vegetali perché è fatta con la farina di lenticchie rosse, è troppo carina, sono dei sedanini adesso vi farò vedere una ricetta buona buona light ed è una novità come c'è scritto qua, io l'ho comprato al Carrefour e c'erano anche fusilli di piselli allora ragazzi ho preparato un sughetto con salsa di pomodoro e melanzane cioè praticamente ho messo la salsa di pomodoro con un po' di cipolla e ci ho versato semplicemente le melanzane tagliate a cubettini dentro quindi senza far soffriggere in modo da farlo sano un po' di basilico ho fatto questo sughetto molto buono che poi contiene anche verdure quindi è un piatto completo per insaporire ci vado a mettere questi capperi che a me piacciono tantissimo e le olive nere, adesso le vado a snocciolare e un po' d'origano, anche un po' di peperoncino se volete con questo meraviglioso piatto di sedanini, pasta light adesso ce ne andiamo a mettere un po' d'olio, questo qua buono a crudo sopra quindi non abbiamo soffritto nulla, è super light e un poco poco di parmigiano, un pochino ok, olio, yummi un po' di parmigiano yummi, è buonissima ragazze c'è veramente buona buona e non sa per niente di lenticchie ma con questo sughetto ovviamente ci potete fare anche la pasta normale il riso, quel che volete voi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like, un pollice in su e vi mando un bacio grandissimo ciao 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 ciao